La prima reazione a quella clamorosa delusione d'amore chiese d'ottenne di farsi trasferire ad altro ufficio. Di lungo 7. Acqua. Regioniere. C14. Catania 14. Acqua. Il destino volle che lo mettessero nella stanza di un certo folagra, la pecora nera, anzi, la pecora rossa della ditta. Questi era un giovane intellettuale di estrema sinistra che tutti, fantozzi compreso, avevano sempre schivato per paura di essere compromessi agli occhi dei feroci padroni. Fu proprio attraverso il contatto con questo folagra che Fantozzi, fallito nell'amore, trovò una nuova ragione di vita. La politica. Cultura di contro-rivoluzioni, non so se è stato chiaro. E c'è un altro dubbio di riso da colpare di informazioni di gruppi spontanei, non so se mi spiego, porco, giunta, scusa, che in un collettivo urbano noi dobbiamo pensare a una congestione che sia proliferante in senso sobrio. Oh! I comuniati di quartieri con un'informazione alternativa precisa la quale noi dobbiamo sospettare. E allora che cosa dobbiamo fare? È a monte che dobbiamo distruggere. Oh, hai capito o no? Cosa fai? Ti ho portato la vitella. No, 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 la mangio dopo, lascia. Ma... La lasciami il latte. La cottolettina fedevi. Prendo solo il latte adesso, vai a dormire, eh? Io devo studiare. Dopo tre mesi di letture maledette, Fantozzi vide la verità e si turbò leggermente. O meglio, si incazzò come una bestia. Ma allora mi ha sempre preso per il culo! Chi ti ha sempre preso per il... Ma loro, il padronato, le multinazionali! Per vent'anni mi ha lasciato credere che mi facerono lavorare solo perché loro sono buoni. Che prego, Ugo. Altro che esser vile riconoscente. Finché una mattina si presentò in ufficio con i capelli a mezzo collo e un misterioso pacchetto. Mi interessa. Miracchi, ce l'avete tutti con me, ce l'avete? Ma che cosa avevo fatto io? Vent'anni della mia vita! Ora vi faccio vedere, io vi faccio! Venite giù, Mirica. È stata lei, vero, Fantozzi? Venga. Era il megadirettore galattico in persona. Colui che nessun impiegato al mondo era mai riuscito soltanto a vedere. Correva anzi voce che non esistesse neppure che non fosse un uomo ma solo un'entità astratta. Verso il diciannovesimo piano ebbe una mostruosa allucinazione punitiva. Procefisso in sala messa. Noi, noi, noi. Noi, noi, noi. Noi, noi. Grazie a tutti. Ma, scusi, questa è la usastanza? Certo. Vabbè, ma le cento piante di ficus e le poltrone di pelle umana. È il grande aquarium nel quale nuotano dei dipendenti sorteggiati. Voci, caro Fantozzi, messa in giro dalla propaganda sovversiva. Prego, si accomodi. Sì, sì, ma dove andiamo? Si siede, qui. Ma qui, al suo posto? Certo. Un sorso d'acqua o un tozzo di pane. Ma, scusi, Conte, io mangiare con lei? Ma certo. Che differenza c'è fra me e lei? Ma abbia pazienza. Ma come che differenza c'è? Non mi vorrà mica dire, signor Duca, che siamo uguali a lei. Voi siete i padroni, gli sfruttatori, noi invece siamo i schiavi, i morti di fame. Oh, ma caro Fantozzi, è solo questione di intendersi, di terminologia. Lei dice padroni e io datori di lavoro. Lei dice sfruttatori e io dico benestanti. Lei dice morti di fame e io classe meno appiente. Ma per il resto la penso esattamente come lei. Come? Altezza, come? Io come lei sono un uomo illuminato e sono convinto che a questo mondo ci sono molte ingiustizie da sanare. La penso esattamente come lei e come il nostro caro dipendente Folagra. Ma, mi scusi, Sire, ma non mi vorrà dire che lei è, scusi il termine, sa, comunista. Beh, proprio comunista, no. Vede, io sono un medio progressista. Ma in merito a tutte queste rivendicazioni e a tutte le ingiustizie che ci sono, lei che cosa consiglierebbe di fare, maestà? Ecco, bisognerebbe che per ogni problema nuovo tutti gli uomini di buona volontà, come me e come lei, caro Fantozzi, cominciassero... La prego, si accomodi. Cominciassero a incontrarsi senza violenze in una serie di civili e democratiche riunioni, fino a che non saremo tutti d'accordo. Ma, mi scusi, Santita, ma in questo modo ci vorranno almeno mille anni. Posso aspettare. Io. Grazie. Così allora le mancherebbe solo la poltrona di pelle umana. C'è? Pelle umana. Esatto. Io era Junior Fonelli della contabilità, lo riconosco. Che bello. Però, l'acquario da dipendenti non ce l'ha mica, eh? Hai visto? L'acquario. Che meraviglia. Che spettacolo. Oh, ecco la signora Ina Pessi. E il meccanico Molly. E l'uscire tritti sorteggiato. E ragionire buon sogno, guarda. Vedo, Santita, che... Le manca la triglia. Posso avere l'onore io. Va bene. Glielo concedo. Ah, grazie. Ma mi raccomando, sia sempre rispettoso e fedele. Sì, onnipotente. Pantozzi ragionire ugo. Matricola 1001 para BIS.